Nella cantina della loro abitazione avevano allestito una vera e propria serra per la coltivazione della marijuana rubando l'energia elettrica direttamente dalla rete pubblica. E' la scoperta fatta dai carabinieri del comando provinciale di Bari nel corso di una vasta operazione antidroga eseguita nel territorio di Bitonto e nelle vicine frazioni di Mariotto e Palombaio. In manette sono finiti un 47enne già noto alle forze dell'ordine ed un ragazzo di 19 anni entrambi accusati di produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti oltre che di ricettazione furto aggravato. I militari sono arrivati a loro dopo aver passato al setaccio diversi casolari nelle campagne bitontine spesso utilizzati dalla criminalità come nascondigli per armi e droga. Fatte eruzioni in uno di questi i militari hanno raggiunto un locale sotterraneo dove i due arrestati avevano allestito una coltivazione di marijuana composta da oltre 300 piante con tanto di concimi, fitofarmaci, vasche con pompa ad immersione e quadro elettrico programmato con un timer. L'impianto in base a quanto scoperto dai carabinieri era lasciato abusivamente alla rete pubblica con un danno per l'ente erogatore stimato in circa 547 mila euro. Nel giardino adiacente sono stati rinvenuti inoltre un estrattore per scassinare i cilindretti delle portiere delle vetture e due targhe di auto risultati rubati a rubo di Puglia nel marzo 2018. I controlli dei militari impegnati con oltre 50 uomini e con il supporto delle unità cinofile si sono concentrati infine anche sulle principali piazze di spaccio del centro di Bitonto dove sono state sequestrate alcune dosi di marijuana. 90 le persone sottoposte a perquisizione, tre di loro sono state segnalate all'autorità giudiziaria come assuntori di sostanze stupefacenti.